In questi giorni, pensate, Drive-In compie 40 anni dalla prima puntata e allora noi vogliamo celebrarlo anche con questo libro. Carlo Pistarino, La spigola nel lago. La fortuna ha una scadenza, vita di un comico. Bene, Pistarino è stato uno dei protagonisti del famoso Drive-In, mitico Drive-In. E qui ci racconta un po' tutta la sua storia e anche l'avventura del magico Drive-In. Davvero ve lo consiglio. E visto che siamo in tema di autobiografie, ecco qui Carlo Nesti, La vita è rotonda. È la biografia ufficiale appunto di Carlo Nesti, questo grande, mitico, telecronista sportivo che tutti noi abbiamo avuto l'occasione di sentire per radio e in tv. Io ve lo consiglio perché è anche un modo di parlare di calcio in maniera differente. Alza il volume!